A Saint-Vençant Festival Internazionale della Magia, mille partecipanti e ce n'è davvero per tutti i gusti. Martedì 8 giugno, Rai 2, ore 21.05, Master of Magic, una serata tutta di magia. Non solo Colombi dal cappello, ma illusioni mozzafiato e giochi di fuoco. A Saint-Vençant 100 ore di magia non stop, con i più famosi illusionisti del mondo. E tra poco su questa rete il programma Master of Magic, con un suo tutto nuovo dedicato al mondo dei prestigiatori. Dal Palais del Casinò di Saint-Vençant, Masters of Magic Presentano Raul Cremona e Mr. Forrest Master of Magic Il più grande spettacolo di magia che sia mai stato fatto in Italia Signora, Sala Bimba Buon applauso all'originale! Io faccio scorrere le carte, quando le vuole, dita? Basta Adesso così? Basta così? Sì Bene, e passiamo al... Vieni che ti faccio vedere io i consigli per diventare un vero mago Io ti seguo! Ma che pubblico! Vieni che ti faccio vedere io i consigli per diventare un vero mago Ah Visto! A presto! 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 A presto!